Ciao! Volevo farvi vedere alcuni esercizi con dei pesetti. Questa volta io uso pesi da 3 kg, ma abitualmente io uso pesi da 5 kg. Però ognuno sceglie il peso proporzionato alle proprie capacità. Andiamo? Facciamo il riscaldamento. Facciamo il riscaldamento. Facciamo il riscaldamento. Facciamo il riscaldamento. 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 16 16 16 16 16 16 17 18 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.